Avete mai pensato che cosa sarebbe la vostra vita senza un senso? Lo dico, la vista. Non a caso si dice diversamente abili, perché un sordo per esempio ha delle capacità di osservazioni incredibili e soprattutto ha un mondo introspettivo ricchissimo. Pensate un attimo ai mistici di tutte le grandi religioni che cercavano il silenzio, la solitudine per ricevere l'illuminazione. E quindi un sordo non è qualcuno che gli manca qualcosa, ma è qualcuno che ha probabilmente qualcosa in più. Il film in programmazione al cinema nazionale di Quarrata parla di una famiglia particolare, ma è anche una famiglia universale, dove tutti noi ci possiamo riconoscere. È costituita da sordo muti, eccetto la figlia maggiore, che lei è la voce di tutta la famiglia. È un film straordinario, un film positivo, che ha commosso l'intera Francia e fatto sorridere anche. Io vi invito a venire a vedere questo film al cinema nazionale di Quarrata. Ricordate, cinema nazionale di Quarrata. Mi è piaciuto il film? Bello? Bello, bello. Si rilegge? Perché andare al cinema? Il cinema è cultura. Potete scegliere. Scabellino, eh? Perché andare al cinema? La vita può avere un sapore più interessante se andate al cinema. Cinema è cultura, amplia e proprio orizzonte. Fa imparare tante cose nuove. Rinunciare al cinema è un poco di rinunciare alla vita. O state attaccati al computer o allo smartphone. Venite al cinema, ci sono dei film meravigliosi, come la famiglia Belieo, per esempio. Big 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 small 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 bo ε Grazie a tutti.